Bentornati qua con il nostro Verdon Sport e il nostro mister Claudio Ranieri Allora intanto chiedo scusa perché devo fare una piccola precisazione Il Molde non è il Malmo, mi ero confuso, mi ero sbagliato Tra l'altro il Molde è la squadra in cui ha giocato Holland Quindi insomma mi ero perso questo passaggio Non so perché pensassi fosse il Malmo Comunque dobbiamo oggi fare un miracolo perché all'andata abbiamo perso 4-0 Dovremmo fare almeno 4 gol di scarto e raga penso che sia molto complesso Però 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 mai dire mai questo è un gioco strano Quindi io ci voglio credere finché c'è la possibilità Vignato la scorsa volta ci ha fatto vedere i sorci verdi Restando in tema Conference League Ragazzi dobbiamo fare il miracolo Il miracolo onestamente sì Vai Alvarez Fatela tutta Eh ma che c'è in mezzo Non c'è nessuno in mezzo No, no, no Non era male L'idea era molto buona Ha vignato però basta C'è Ce l'ha con me vignato Ce l'ha con me Non c'è niente da fare Abbiamo un vignato che è un vignato prime in questo momento della sua vita E bisogna arginarlo in un qualche modo Certo che un 4-0 non è per niente bello A me non vorrei uscirne Ragazzi stavo dicendo Vorrei uscirne con un po' di dignità Che cavolo è successo Ma non lo so Ma non lo so Qua la dignità mi sa che la perdiamo totalmente quest'oggi Totalmente Rega Non lo so Non lo so Ma così forte sto molde Cioè più forte di noi Io non credo che sia molto più forte di noi eh Onestamente parlando Vabbè Comunque Eeeh Buttava dentro Per chi non si sa Palla messa fuori Bravo Schneider Eh però Schneider devi resistere lì Se no E che loro ogni volta che attaccano Cioè Fanno grandi cose Invece noi D'altra parte Ogni volta che attacchiamo Non facciamo una fava Bravo Schneider Mi è piaciuto questo intervento A palla lontana Ancora vignato Il nuovo Cristiano Ronaldo A vignato Ma che c***o Ma che ti sei magnato in questi giorni Bravo Bravo Il campo è finito Quindi anche basta Farsi giochetti Comunque 5 a 0 24esimo 5 goal in Eeeh Impossibile 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 Che ho visto Qualcuno in mezzo Mamma mia che brutto cross Che ha fatto Il nostro amico qui Che bruttissimo cross Bravo Coller Cosa fa Perché Ma perché fa Lui non ha fatto decisamente niente Ma fallo di cosa Ma fallo di cosa Eeeh Però raga Cioè Siamo veramente Rincoglioniti A livelli estremi In difesa La conference Eeeh Un livello Troppo alto Per noi Io pensavo di no Onestamente Cioè non so Cioè Sto rimanendo Molto deluso Perché Mi aspettavo Non di passare In scioltezza Ma Di passare Almeno i gironi Io me lo aspettavo Rega Vi dico la verità Cioè Non Non credevo Fosse così complesso Arrivare ai gironi Di conference league Quanto pare Bravo Gonzales Vai Gonzales Vai dentro Che cosa sta succedendo Ma cosa Certo che ci mangiamo Dei gol già fatti Comunque C'è anche da lì Questa cosa Che è molto importante Cioè Ci siamo mangiati Anche adesso Un gol Veramente fatto E finito Eeeh Non va bene Non va bene Non va bene Eeeh Raga Sabignato Basta Ha fatto teste finte No Bertrand Cosa fai Fortuna che questo ha fischiato Perché Insomma Eravamo messi malino Onestamente 1 a 0 Primo tempo Certo che Anche se Anche all'andata Avessimo giocato Mediamente Così Forse A ritorno Ci sarebbe Stato un pochino Più di possibilità 2 a 0 C'ha veramente Tagliato Ogni possibilità Di qualificarci Cioè Bisogna essere Tremendamente onesti Ma guarda come giocano Ma giocano benissimo Comunque Raga Io non vorrei dire Ma giocano veramente Un calcio Spumeggiante Cioè Mi sembra di essere Contro il Real Madrid Ma non contro il Molde Oh Vai a capire Andersen Non si è visto oggi Gonzales Bravissimo Ma è Silva È sicuramente un giocatore Che può dare molto A questa squadra Piero L'hai visto Andersen Se avessimo giocato così All'andata Se avessimo giocato così Vabbè Vabbè Ormai quel che è fatto È fatto È una grande delusione Perché secondo me Potevamo fare cose Oh Ma che bel replay Signor FC Abbiamo un problema Ma il replay Non è che sia proprio Il massimo della vita E ritorno che vedi Che alla fine dei conti Non siamo così pessimi Solo che L'andata Non so cos'è Cos'è successo La fase difensiva Era completamente Ingestibile E in attacco Erano pure sfortunati Che dovevo fare Diciamo che il gioco Me l'ha un po' incartata All'andata Leggermente Cioè oggi difendiamo Benino Rispetto All'andata Benissimo Cioè sembra quasi che Sia cambiata la squadra E invece Sono sempre gli stessi È una cosa Veramente imbarazzante Questa Etuer Ci prova Mamma mia Che brutta roba Vabbè Facendo i cambi Silva è stanco E vabbè Sono tutti stanchi C'è Sanchez C'è Sanchez A posto di chi? Di Schneider Sì Il nostro nuovo acquisto Andiamola a provare va Tanto oggi Mi sa che è andata così È andata Troviamo sto Sanchez Vediamo com'è Magari una grande sorpresa Pure lui Chi lo sa Tra l'altro Scambiato per delle Alli Quindi Una differenza di età Abbastanza grossa Meno male È un po' più scazzo Però Però in prospettiva Molto più forte Delle Alli Bravo Brown Daie Daie A meno vincerla Per l'onore Vignato è uscito Per fortuna Farò le note Sorci verdi Sto ragazzo Gonzales Bellissimo Vai Bellissimo Bravissimo Gonzales Bravissimo Dai Anche lui segna 2-1 Mannaggia Mannaggia tutto Perché avremmo avuto Le potenzialità Tranquillamente Di arrivare ai gironi Invece Invece Aveva solo Se hanno giocato Malissimo L'andata Ma malissimo Proprio No brutta roba Brutta roba Brutta roba Con calma Con calma Nooo Ma cos'è Sta roba vuoto Tutti a vuotissimo Vabbè Niente Vada Vada Ragazzi Io direi di andare a simularla Fino alla fine Non perdiamo tempo Perché Non c'ha senso Vai il risultato 2-2 Va benissimo Cioè Pure il rigore sbagliato Di Gonzales All'ottantasesimo Ma cosa c'entra Va bene Niente Cioè San giocata male All'andata Questa è la verità Ed è un peccato Perché Insomma 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 Il suo conto Su Zezè Allora È un buon Difensore centrale Però Fisico 61 Non mi piace No Non è buono Per nulla Manco per fare Manco per fare Il sugo Nathan Ecco Nathan È già un pochino Più interessante Se chiamo anche Prelec Che tra l'altro In scadenza Che dirà Locosvili Ok Premio torneo 750.000 euro Mi sa che Mi sa che Era un obiettivo Raggiungi i quarti Di finale Brutta questa Brutta brutta Potrebbero buttarci via Cioè Potrebbero esonerarci Per questa roba Cioè Non siamo neanche Arrivati ai gironi Vabbè Non pensiamoci Al momento Godiamoci L'andare avanti Della stagione Gonzale È stanco Mamma mia Ma come si è messi male Mettiamo Alves Mettiamo Sanchez Mettiamo Ma chi metto Io Ma chi metto Ma chi metto Sono tutti cotti Ma perché sono tutti cotti Perché sono tutti cotti Vabbè Andiamo così Dopo guardiamo un po' Il programma di allenamento Perché c'è qualcosa Che non va Non possono essere tutti cotti Sempre Io comunque li alleno Mi ho messo i piani appositi Ma Sono stanchi Sono stanchi Vai capire Oggi Debutto Debutto Sì Debutto dal primo minuto Di Sanchez Rispetto ai 20 Fatti La scorsa Partita Vediamo un po' Che succede Vai Alvarez L'hai visto No Era lato di rovesciata Raga La rovega Era paradisiaca Ma quando inizia Sta partita Io spero Che le due squadre La partita è già iniziata Da un pezzo Non vuole dire Siamo a sesto minuto Lui è ancora lì Che sta pensando Quando è che inizia E chi è Alves Fugge bene alla marcatura No Avevo visto l'inserimento Me l'ha passata male lui Avevo visto l'inserimento Perfetto Era buono Era buono Era buono No ma perché Tra l'altro Il servetto Dovrebbe essere terzo In classifica Noi quarti Quindi Oggi Partita importantissima Per la nostra classifica Anche perché C'è rimasto solo Da vincere il campionato Come obiettivo Se no Qua veramente Ci cacciano A calci nel cul Giustamente Poi tra l'altro Etwer Etwer Cos'è Dai No 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 Bertrand è tua No Neanche per Neanche per L'anticamera del cervello Bravo Gonzales Gonzales Che sta crescendo Molto bene In queste Partite Sanchez Cos'è sta roba Cos'è sta roba Tiraccio Tiraccio Bruttissimo Vai Ricky È tua No non è tua Non è tua Li si sperava Ma no Come non detto No ma perché Così a vuoto Bra Un ottimo intervento Dai Ripartiamo Kohler Gonzales Sanchez Guarda Etwer L'hai visto anche bene Il problema è che Passaggio faceva un po' ridere Vai Etwer Non a lui Non a lui Non c'entrava niente Non era la mia idea quella Avevo un'altra idea io Totalmente opposta Quello che ho visto Ma era appunto Un'altra idea No a vuoto A vuoto Ah Bertrand No perché Così a vuoto Ma perché Bravo Valenzuela Come sempre Ripartiamo da Andersen Andersen Guardalo bella Sta palletta Di Andersen Etwer Non so come la controlla Ma noi va bene lo stesso No cos'è Sanchez Ma cos'è Cioè te la sei persa lì Non c'è più tempo Finisce la prima È sul più bello questo Si è persa la palla Vabbè Primo tempo Bruttino Zero a zero Non riusciamo a tirare in porta Forse siamo anche un pochino stanchi Dalla scorsa partita Tant'è che Non si è messi benissimo Non si è messi per niente bene No Valenzuela Vuotissimo qui Bravo però Si fa perdonare Però Sanchez Adormenta Bertrand Bertrand A vuoto Totalmente a vuoto Facciamo a sbloccare questo zero a zero O no 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 Brown Miracolo Miracolo di Brown qui eh Miracolo perché Questa era veramente difficile Ravvicinata Brown è tua Cos'è sta roba Cos'è sta roba Brown Cos'è Perché mi esci così Perché mi esci in questo modo Inguardabile Perché fai così Brown Che è passato Bravo Sanchez Sanchez Che dico Sanchez Non c'è la Z C'è la S Bravo Sanchez Bravo Sanchez Vai Etwer Ma porca miseria Bravo Coller Dai Dai Cortomusissimo Ti prego Cortomusissimo Dove andava il portiere L'ha presa a culo Perché non Non sarebbe mai arrivato Calcio d'angolo Ancora Sanchez Buona la palla Bertrand Non ci arriva Eh Gonzales È piccolino L'hai visto Coller Cos'è 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 Eh siamo un po' In difficoltà Leggermente 0 a 0 Però non ci va bene Non ci va bene Lo 0 a 0 È tua Alvarez Mamma mia No ma non ci credo No no Cosa Ma cosa Ma che Ma cosa c'entra Qui il calcio di rigore Cosa c'entra Schneider Mamma mia Siamo alla canna Del gas Proprio qua Amos Rodriguez E il buon Lungoi C'è posto Per pozzo Sì Sì Ma dai Ma cos'è Sto calcio di rigore Vabbè Netto Gli dato dei calci Ragazzi Brown A destra Sì A destra Del calciatore Vabbè Comunque Servetti in vantaggio Servetti in vantaggio Noi siamo in svantaggio E oggi Ha giocato un pochino Maluccio Sto partita A Kohler Però io non Io che ti posso Di Kohler Ma io che ti posso Di Occhio da lì Sa per farne un altro Cioè Siamo Siamo stanchi Si vede Si vede Si vede Bravo Lungoi Pozzo 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 Vai Pozzo Vai Pozzo Lo salta Di netto Pozzo Sterza Verso L'interno Amos No Ancora questo Ancora questo Parata Clamorosa Carcio D'angolo Schneider Ancora lui La butta per Amos Pozzo Mauro Cos'è sta cosa Sto culo Che hanno questi Che fortuna Che fortuna No dove è passata Sta palla Dove Cerca il corridoio Ah Fuori gioco Però dove stava andando Brown Era praticamente Fuori posizione Al massimo Ma era leggermente Più avanti Al momento Della conclusione Amos Non si arrendono Vogliono almeno I pari Può essere uno degli ultimi Assalti Puzzu 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 Daie Daie Buono Buono Che giocatore Che pozzo Comunque Mi piace Mi piace Siamo di nuovo In parità Grazie al gol Dell'1 a 1 Dovessimo ribaltarla Non so che Gli Aruba Questi la palla Gli Aruba Abbiamo a rivedere Il nostro giudizio No No 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Vabbè Contro Quella vanti in classifica L'1 a 1 Ci può stare Certo è che oggi Eravamo un po' Sotto tono Questo bisogna dirlo E' un peccato E' un peccato Perché 1 a 1 Qui è un peccato Vabbè Aguilar Aguilar Dovrebbe motivarlo Se non gioca Impegnati No E Abbiamo ampiamente Meritato il pari Mi sembra Corretto Onestamente Due ottime difese Adesso la nostra Un po' meno Però Però si Però si Ragazzi Facciamo un po' Di piani di crescita Perché qua Cioè di allenamento Scusate Perché qua Veramente Non capisco Cosa sta succedendo Gonzales Energia Etwer Energia Energia Qua posto Energia 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 Vabbè Portiere va bene Sancio Energia Amos Energia Mauro Energia Pozzo Energia Lungoi Energia Venta Berry va bene Così Energia Ok Ok Dovremmo andare In questo modo La prossima È con Il Lucerna Reso conto finale Su Barry Armstrong 20 anni Portiere No Vignato Ragazzi Vignato Mai mi ha conquistato Io Vignato Vignato Lo vorrei Tra l'altro In prestito Piero Abate Piero Abate Piero Abate Un Td Diciasettenne Anzi Facciamo così Cioè un Td Diciasettenne Così forte 70 Doverall Velocissimo Tranquillo Bertrand Pensa a giocare Pensa a giocare No Non era Abbrosa Che volevo andare Abmercato Ragazzi Ehm Chi è Rabate Io Quasi 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 Sì Ma quasi Quasi Sì Sfruttiamo Se il turnover È anche Umile 5 anni Va benissimo Ignora Clausula 400 Di stipendio Ma chi sono Io per dirti Di no 400 Settimana Ma è Bagatissima Sta roba Non c'ha senso Prende una Prende pochissimo Meglio Meglio Sono solo contento Allora Abate C'è a destra Rueg Quindi Rueg Volendo Visto che Ha 27 anni In prospettiva Si potrebbe anche Vendere Rueg No Quanto vale Rueg Scusatemi Che non mi ha mai Impressionato Si ha giocato bene Però Quanto vale Quanto vale Non ce lo dicono Forse finanze 2,3 milioni Che entrerebbero In In cassaforte E Non ci interessa Abate ora Perché tanto Alla fine Alla prossima Non la giocherà Abate Ma è già arrivato Era già arrivato No Vabbè Fanno la presentazione Dopo che è arrivato Offerta per Rueg Oh Dal basic Dal basic Tax 2,6 milioni Ma se arrivassimo 2,8 milioni Ma io Non mi farebbe schifo Manca 3 Cioè No Che ne pensate Perfetto Acquisto a 0 Vendita a 3 milioni Si fa così Sanchez Si può cambiare Il ruolo 73 No Non è cambiato Una fava Bravo Sanchez Bra Mannaggia Vabbè Fa niente Dai Fa niente Fa niente Avanziamo Offerta per Rueg A sto punto Facciamo un po' Di 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 cosa Un po' Di trattativa Al rialzo Ok Si arriva la partita Ragazzi Con il Lucerna E Dobbiamo vincere Ecco I piani di crescita Però adesso Non sono senza Nessuno Mamma mia Si è messi malissimo Nella lucidità Ora Mannaggia Io odio Questa cosa Posso dirlo Che la odio Cioè Devi sempre Stare lì Dietro Guardare Che scatole Che scatole Sta roba È una cosa Che non sopporto Perché l'hanno messa Sta roba Che C'ha senso C'è sì Il realistico Tanto è un gioco Che non è per niente Di suo Realistico Quindi che cosa cambia Vabbè Spero di non essere Smentito Bravo Coler No 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 Porca miseria Porca Attenzione Attenzione Soprattutto Alla posizione Alla posizione Di quest'anno Di centrocampo Che dovranno Anche però Schingere un po' Valenzuela Buongiorno Eh Vedremo se sarà Questo L'assetto Definitivo Au Au Ma che è 1-0 Nessuno che riesce ad andare addosso alla palla Non capisco il perché Tutti fermi Aspettare Sperare Oh io ho spinto mille tasti Ma nessuno ha fatto nulla Vabbè La Valenzuela Che cazzo stai combinando oggi Eh vabbè Cosa fa quest'altro Vabbè Va bene lo stesso Eh Andersen L'hai visto L'hai visto Vai Etwer Etwer 1-1 Subito La pareggiamo Subito Bel gol Bel movimento Mi è piaciuto assai Questo movimento di Etwer Vi devo dire Bravo Kohler Per vento d'oro Ancora Kohler per Andersen Valenzuela Etwer Gonzales Sì ma aspetta mezz'ora C'è due ore per tirare in porta Una roba scandalosa E' lentissimo Gonzales A tirare in porta Troppo lento Non va bene Sta cosa qui Se posso essere onesto Non va tanto bene No Ma cosa flischi Ma non c'era mai Che poi che fallo è Non si è nemmeno capito Spazzano Senza problemi Mamma mia Etwer Che controllo terribile Che hai fatto Silva Silva contro tutti Au Non c'è nessuno Silva Silva contro tutti Possono portarsi in vantaggio Cosa fate Rigore Rigorissimo Ma come no Io volevo passarla a Gonzales E l'ha passata così Non ho capito il perché In questo modo Vabbè Io l'ho presa Scusatemi Cioè Il portiere Non becca mai La palla Raga Ma questo è rigore netto No Io non c'ho parole Ma io non c'ho parole Non c'ho sprecato Proverò ad avanzare Non c'ho parole Cioè Rigore netto Non fischiato Ma rigorissimo Proprio Occhio al pallone Ma non ci interessa Ma non ci interessa Etwer firma Il 2 a 1 Per il Verdon Sport Etwer oggi In forma stratosferica Doppietta per lui Dai con la tripla Ci portiamo a casa Il pallone Dai con la tripla Facciamo la tripla Sarebbe utile Come il pane Bravissimo Etwer Gonzales Ottima palla Schneider Guardalo bene Andersen Va da solo Gonzale Sempre tu Ci metti 15 anni Finisce qui Il primo tempo Va bene Va bene Il primo tempo Positivo Devo dire Molto positivo 2 a 1 Abbiamo ribaltato Dopo un inizio Un po' sconvolgente Però ci siamo Ci siamo E che È già È già importante Bravo Sempre Coller Andersen Etwer Bellissimo Schneider Vai Vai Ti ho visto Gonzales Mamma mia Se sei lento Se sei Senza fisico Tu puoi fare il cacciatore Gonzalo No ma che Come gran tiro poi Io non volevo Io volevo fare il contrasto Io volevo fare il contrasto Può scambiare con il compagno Cos'è 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 sto passaggio Da Gonzales Ma ti svegli Li mortacci tua Silva però anche tu Dormi in piedi eh Fattolo di No non fartelo sfuggire Bertrand Ecco Mamma mia Brown Lui è sempre decisivo Allora Cambi Cambi Chi è stanco Cambiamo Silva Cambiamo Gonzales Per Amos E mi Mi cambio Anche Mettiamo anche Pozz Però Etwer Sta giocando molto bene Mettiamo Lungoi Non lì Non lì Non c'entrava nulla Allora Non ci vuoi andare lì Io ti ho detto che devi andare là Su Ok Bravo Lungoi Ce l'hai fatta capirlo Calma Un po' di freschezza L'abbiamo messa in campo Perché qua stiamo un po' Rischiando eh Bravo Bravo Vai tu vai tu Ripartimi Bravissimi Lungoi Fermati Bravo Etwer Schneider Bellissimo Lungoi Ma porca miseria Ma porco tutto No ma cos'è Sto Sta sfia Clamorosa Grande tecnica Qui Bravissimo Che intervento Che ha fatto Valenzuela Qua Qua si eh Etwer Lungoi Lungoi Amos Bravissimo Amos Faccio champagne Etwer Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ma cosa ha sprecato Etwer Cosa ha sprecato Etwer Ragazzi miei Cosa ha sprecato Ha sprecato il mondo No no Stiamo entrando negli ultimi 5 minuti Con un gol Che divide le due squadre Ma rega Può essere l'ultima occasione per il pari Novantesimo no eh Che culo Ultima azione Teniamola noi Teniamola Bravo Etwer Come esce bene Bravissimi Bravissimi Tre punti Fondamentali Ma che fatica Ma che fatica Ragazzi Ma che fatica Ma che fatica Ma che fatica In base di idea che pareggia È oro colato Due punti recuperati In caso che Bene 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 Allora Etwer Ehm Giocare bene da fiducia Sì E come giudica La sua prova Ottima Prestazione Nel complesso Pensiamo alla prossima partita Anche perché ormai abbiamo Coppa e campionato Non è che abbiamo molto A cui pensare Posto in arrivo Tre Rueg venduto Benissimo Sì Adesso arrivo Eh Datemi un secondo Con questi programmi Che Mi vengono A bestemmiare Ehm Schneider Tutto su Energia Ok 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 Poi Prestazioni 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 Benta Va bene E Abate Prestazioni Alves Prestazioni Proviamo così Proviamo così Rueg Venduto Al Besiktas Per 3 milioni E' molto buona Questa manovra E' molto buona Eh Beh B Vabbè Sì 3,7 Non credo Però 3,12 Tu Allora Luca Lokoshvili No Non Nick Prelec No Non mi ispira Niente Proprio Nulla Cosmico Mi ispira Che Dira Che Dira Ma Abbiamo Già di meglio A momenti Cioè Sarebbe Un Un sprecare soldi Inutili Su un giocatore Che è 27 anni 75 Non avrebbe senso Vediamo un po' Se sono messi bene I giocatori Intanto siamo Quarti in classifica A 14 punti Il primo posto Dista 6 punti Ehi Lo Young Boys Non ha mai perso E dura pure quest'anno E dura Vediamo un po' I programmi di crescita Brown Non può fare meglio Nova XI Valenzuela 5 settimane Rodriguez 14 Bentaberry Massimo E questo Coller E massimo E questo Aguilar Non c'è di meglio Bertrand Non c'è di meglio Eh no Siamo lì Siamo un po' Bloccati Con le crescite 9 settimane Pure qua Insomma Alves Va bene Massimo è così 17 Va bene Schneider 19 È un 76 Comunque Schneider Giocando Sta crescendo Abbastanza bene Andersen È un 73 Silva È un 72 Etwer È un 73 Gonzales Gonzales È un 72 È cresciuto di un punto Se non sbaglio Giocando E Pozzo Sempre 71 Amos È rimasto Un 70 Purtroppo Poco spazio Per lui Non è fatto apposta Ma lo spazio Quel che è E niente Ragazzi Allora Prossima volta Abbiamo Ilosan Ilosuric E il Sangallo Dovremmo fare 9 punti Perché qua bisogna Far punti Se no Qua Young Boys Vola Vola Ci fa Ci fa volare Anche a noi Quindi sarebbe il caso Di fare questi Questi punti E di provare A riavvicinarci Alla vetta Nella classifica Ragazzi Io vi ringrazio molto E ci becchiamo Alla prossima Ciao Ciao